Approvata dal Consiglio Comunale la variante urbanistica per la realizzazione dello scaro ferroviario da parte di RFI alla stazione di Xirbi. Due progetti approvati in Consiglio, tutti interamente a carico di RFI. Uno riguarda il raddoppio della linea ferrata Caltanissetta-Enna, già pronta da Catania fino a Centuripe, e l'altro l'ampliamento della stazione Xirbi che diventerà il nodo centrale della Palermo-Catania. Due anni di lavoro tra amministrazione e rete ferroviaria italiana. Nel 2026 si avrà il collegamento tra aeroporto di Catania e stazione Xirbi in 45 minuti. Xirbi dunque diventerà l'hub di riferimento della Sicilia centrale, previsto un parcheggio che potrà contenere 400 veicoli, in più in aggiunta una pista cicabile che si collegherà con Enna come infrastruttura aggiuntiva. Il finanziamento all'interno del PNRR è stabilito da RFI, quindi finito e rendi contato entro il 2026. L'inizio dei lavori è previsto a metà anno.